Al Parlamento ucraino è stata depositata una proposta di legge per il riconoscimento del ruolo dell'organizzazione dei nazionalisti ucraini e dell'esercito insurrezionale ucraino durante la Seconda Guerra Mondiale. L'Assemblea, pertanto, sarà chiamata ad esprimersi sulla definitiva riabilitazione delle due organizzazioni che, ricordiamo, al termine della Seconda Guerra Mondiale furono condannate dal Tribunale Militare di Nuremberg per collaborazionismo con l'esercito nazista tedesco. La Repubblica Popolare di Donetsk ha dato il via al pagamento delle pensioni, stando a quanto riportato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Sergei Timofejev. L'inizio dei pagamenti da parte dell'autoproclamata Repubblica Popolare è coinciso con la fine del sostegno economico sancito dal Governo centrale. Kiev, infatti, aveva indicato a data del 1 dicembre quale termine ultimo degli obblighi presidenziali verso i pensionati delle Repubbliche della Nuova Russia. Il rafforzamento delle forze NATO è di natura ostile e destabilizza l'intera area del Baltico, in passato una delle zone più sicure d'Europa. L'incremento della forza militare nell'est europeo, anche attraverso armi ad elevato potenziale, sta compromettendo la sicurezza regionale. Questo è quanto affermato dal Vice Ministro degli Esteri della Federazione Russa all'agenzia di stampa Interfax. Il diplomatico ha proseguito affermando che le continue esercitazioni militari che vedono coinvolte forze aeree anche in grado di trasportare armi nucleari sono, al momento, la trista realtà con cui fare i conti. Continua la pressione esercitata dagli Stati Uniti e dalla UE sulle nazioni est europee che ancora non hanno aderito alle sanzioni volte a colpire la Federazione Russa. La conseguenza di tale pressione è che la Serbia, l'Ungheria e la Bulgaria rappresentano attualmente l'ultima frontiera del confronto tra Occidente e Federazione Russa in questo senso. La Serbia, ad esempio, si trova letteralmente tra l'incudine e il martello. Da un lato l'Unione Europea spinge per l'adozione delle sanzioni, facendo leva sul percorso di integrazione europea già intrapreso. D'altro canto, esiste un forte legame culturale, religioso ed economico che lega Belgrado e Mosca. Per il fronte antirusso sarebbe importante coinvolgere la Serbia nelle sanzioni, perché questo dimostrerebbe che nonostante i reciproci legami, la Russia sta agendo in modo sbagliato in Ucraina, mentre l'alleanza occidentale sarebbe nel giusto. La dare maggior forza a questo messaggio è il fatto che la stessa Nato si è resa responsabile di aver bombardato la Serbia 15 anni fa nell'ambito del conflitto nell'ex-Yugoslavia.